Cominceranno questa mattina all'alba le operazioni di sezionamento della carcassa della Balenottera che aveva scelto il porto di Sorrento per il suo ultimo viaggio. Maestosa, lunga, come un palazzo di cinque piani, è stata scovata a 12 metri di profondità dai sommozzatori della guardia costiera ed era talmente grande che quasi non ci credevano, anche perché si aspettavano qualcos'altro, un cucciolo. Invece la Balenottera comune, ritrovata morta nei giorni scorsi nel porto di Sorrento, è la più grande mai recuperata nel Mediterraneo. La carcassa che presto diventerà oggetto da museo misura poco meno di 20 metri, cifra che batte il precedente record di un esemplare spiaggiato a Piombino nel 1990. Il cetaceo è stato trasferito nella notte tra martedì e mercoledì con l'intervento di uomini e mezzi della Capitaneria di Porto che ha impegnato la direzione marittima di Napoli e gli uffici marittimi di Castellammare di Stabia e Sorrento. I cetacei muoiono per molte ragioni, da malattia, perdita dell'orientamento e inquinamento fino all'impatto con le navi. L'esemplare di Sorrento a prima vista non presentava segni di collisione e potrebbe essere morta per un virus, ma solo la necroscopia che effettuerà il team di Sandro Mazzariol dell'Università di Padova e responsabile del CERT, centro che si occupa dei cetacei spiaggiati, potrà fornire certezze.